Longin Dolce Vita, l'eleganza italiana L'orologio da polso Dolce Vita rappresenta l'essenza stessa dell'eleganza italiana e del lusso senza tempo. Con un design ispirato alla Dolce Vita e una raffinatezza intramontabile, il Dolce Vita cattura lo spirito di un'epoca in cui lo stile era sinonimo di bellezza. La storia del Dolce Vita è un omaggio all'era dorata dell'eleganza e del glamour. Creato per celebrare l'arte di vivere bene e con stile, questo modello incarna il fascino della Dolce Vita italiana. La sua storia è una testimonianza dell'attenzione al dettaglio e alla maestria artigianale che caratterizza l'orologeria di Elite. Il design del Dolce Vita è caratterizzato da linee pulite e dettagli raffinati che richiamano l'estetica classica italiana. La cassa spesso presenta curve morbide e finiture impeccabili, creando un look che cattura l'essenza del lusso senza tempo. Il quadrante spesso è arricchito da indici eleganti e lancette sottili, riflettendo l'attenzione ai dettagli e la leggibilità dell'orologio. Questo equilibrio tra design affascinante e stile intramontabile rende il Dolce Vita una dichiarazione di eleganza senza tempo. Molte celebrità di fama mondiale hanno scelto il Dolce Vita come un complemento perfetto al loro stile sofisticato. Un dato degno di nota è il costante rinnovamento del design del Dolce Vita. Ogni nuova edizione spesso presenta dettagli esclusivi, come materiali pregiati o complicazioni avanzate, continuando a mantenere viva la tradizione dell'innovazione nell'alta orologeria. In conclusione, il Dolce Vita è più di un semplice orologio da polso, rappresenta un omaggio alla bellezza dell'Italia e allo stile senza tempo. La sua storia è affascinante, il design classico e le numerose edizioni speciali lo rendono un'icona di stile e glamour. Indossare un Dolce Vita è un tributo all'arte dell'orologeria e all'eleganza intramontabile. Con la sua storia ricca, il design affascinante e la dedizione all'eccezionalità, il Dolce Vita continua a brillare come un gioiello senza tempo nell'universo dell'alta orologeria. Scegliere il Dolce Vita è abbracciare l'eredità dell'eleganza italiana e l'arte dell'orologeria impeccabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.